La seconda settimana di Sondrio Festival è partita sotto il segno dell'attività didattica che proseguirà fino a dicembre coinvolgendo 15.000 alunni, fra la visione dei documentari e i laboratori. Lo scorso weekend si è chiuso con le proiezioni dei primi 5 documentari in concorso e le apprezzate attività pomeridiane per le famiglie. Intanto sotto le ali del Colibri, testimonial di questa settimana, prende il via stasera il secondo weekend che prevede due serate stasera e domani e due pomeriggi domani e domenica, durante i quali si alterneranno le proiezioni dei documentari, i grandi ospiti e le attività per le famiglie. Il teatro sociale, la tensostruttura allestita in piazza Garibaldi e il cinema Excelsior sono i luoghi pronti ad accogliere il pubblico. Ancora quattro serate di proiezioni, questa settimana e la prossima, per vedere tutti i documentari in concorso prima di scoprire i vincitori domenica 14 novembre. È di oggi l'annuncio che la cerimonia di premiazione sarà presentata da Alessandro Cecchi Paone, già in passato ospite della mostra internazionale di documentari sui parchi con Gigliola Amonini.